Junior Heave Con l'età Placidone Non è migliorato, anzi Incanalare la sua energia in diverse attività positive Lo sport Sport Boy Scout Un corso di danza Piuttosto uccidetemi Ma dove i sistemi correttivi falliscono Gli occhi dolci fanno centro E adesso vai pure a casa Piccola peste si innamora Domenica alle 21 Su 27